Una comunità in festa seppur da lontano per il compleanno della signora Antonietta Milito Nicodemo che ieri ha spento le 100 candeline festeggiata dal sindaco Giancarlo Guercio che l'ha raggiunta per gli auguri con un mazzo di fiori tricolore a simboleggiare la speranza che il compleanno trasmette a tutti noi in questo momento delicato della nostra vita. Nata nel 1920, quando l'Italia stava uscendo fuori dalla grande epidemia influenzale della Spagnola, la signora Antonietta ha vissuto in prima persona la drammaticità della Seconda Guerra Mondiale e le sofferenze del periodo post bellico. Madre di sei figli, di cui tre purtroppo deceduti piccolissimi a causa di un'epidemia pandemica pare negli anni 40, la signora Antonietta ha festeggiato oggi il suo compleanno circondata dall'affetto dei suoi tre figli Valentino, Lina e Carlo che non hanno voluto rinunciare alla festa e a manifestarle tutto l'affetto e l'amore di figli verso la cara madre. Una festa a cui si è voluto unire anche il sindaco a nome dell'intera comunità che non ha potuto manifestarle personalmente l'affetto e la gioia per l'importante traguardo raggiunto. L'amministrazione comunale ha voluto comunque realizzare un piccolo e riservato momento di festa con un buffet e naturalmente l'immancabile torta per i cento anni della signora Antonietta. Abbiamo voluto condividere, ha spiegato il sindaco Giancarlo Guercio, questo momento personale come esempio collettivo di salute e di benessere, soprattutto in un periodo così incerto e angosciante come quello che stiamo vivendo. Antonietta, ha dichiarato ancora il primo cittadino, è un simbolo per tutti noi, un simbolo di resistenza, di speranza, di prosperità e quell'esempio che ci ricorda quanto sia prezioso l'unico vero bene di cui disponiamo, la vita che dipende solo dalla salute. Una piccola e riservata festa quindi per un compleanno che ora più che mai meritava di essere festeggiato per il significato speciale e per l'importante messaggio di speranza del futuro che trasmette non solo alla comunità buonabitacolese ma a tutto il Vallo di Diano, una rieta notizia di cui si avvertiva un forte bisogno.